Secondo me non cambierà molto. Odio, amore, paura, morte. I sentimenti sono come delle note sul pentagramma. Da sempre gli artisti le ricombinano fra di loro all'infinito. Il pubblico e il piccolo del grande schermo anche oggi non sta smettendo di goderne da casa. Le società cinematografiche stanno lavorando. Hanno solo sospeso i setti in Italia e in qualche parte del mondo. Anche dopo la grande guerra, il cinema, la televisione e la musica hanno avuto i loro periodi migliori perché il suo numero è la creatività artistica. Una cosa che va considerata è che lo Stato ad oggi dovrà fare la sua parte con nuove politiche di accesso al credito. Io credo che le sale avranno sempre un ruolo fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi. Le persone amano andare al cinema. Credo anche che lo streaming non sia la scelta corretta. Che nel mondo di oggi ogni esercente deve capire che la propria sala deve essere tecnologicamente all'avanguardia. proprio per contrastare il fenomeno dello streaming. Bisogna attendere ancora qualche mese prima che questa pandemia termini. Arriveremo all'immunità di Greggie o all'uscita dei primi vaccini. Ma quando tutto sarà passato si tornerà alle vecchie abitudini e potranno riprendere anche i festival e le manifestazioni all'aperto. È ancora troppo presto per dire come ci cambierà questa esperienza perché è ancora in corso. La causura e la paura della morte durano da meno di 30 giorni e la conseguenza della nostra vita ancora non si sono consolidate e neanche materializzate. Cosa preparà? La catastrofe? La rinascita? Sono davanti al vuoto con tante incertezze. Non si può ancora parlare di memoria all'esperienza perché ancora non si è formata. Grazie a tutti.